ciao a tutti ragazzi e ragazze oggi per la prima volta su questo canale intanto bentornate benvenuta alle nuove iscritte e bentornate alle vecchie vecchiette allora per la prima volta su questo canale voglio fare un video haul perché ho fatto degli acquisti veramente molto 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 interessanti allora intanto partiamo con l'abbigliamento scusate chi c'ha chi c'ha niente ha deciso che allora questo è di mia figlia niente allora partiamo con queste maglie molto basic sono delle maglie in aspettate che ve lo dico cotone se non sbaglio questa è una l hanno la manica tipo a pipistrello però poi finiscono molto aderenti come come braccio infatti vedete sono molto molto carine per chi è di olbia o dintorni l'ho presa da terranova all'interno del centro commerciale ocean e l'ho pagata 7 euro e 99 guardate è troppo troppo carina si può usare sia come maglia come sottogiacca è uguale identica l'ho presa in nero sempre 7 euro e 99 e e voilà eccola qua vedete la manica resta così e questo praticamente è dal gomito in giù ma arriva a tre quarti ok come abbigliamento fatto perché poi ho preso una giacca in quella a mia figlia quella è tutta un'altra storia invece gli acquisti veramente graziosi li ho fatti da co import sempre nella galleria del centro commerciale ocean e ho preso questo diffusore di profumazioni questo è alla cannella che è una profumazione che io adoro adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere perché sono veramente graziosi aiuto non esce non vuole uscire allora molto semplici però hanno una profumazione veramente molto 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 gradevole allora ho preso questa la cannella con relativi bastoncini poi ho preso quello alle spezie e arancia ok voglio mi sono presa una copertina da mettere adesso che mi ha rinfrescato allora aspettate i diffusori di profumazioni li ho pagati 2 euro e 99 sono scontati del 56 per cento venivano 6 e 90 adesso li ho pagati 2 euro e 99 sono da 125 ml e niente secondo me molto 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 convenienti poi vi dicevo preso questo questa copertina si chiama coperta nuvola sempre da co import è 120 per 160 per il mio lettino va benissimo e aspettate che vi dico la la posizione si è poliestere sembra ciniglia sembra l'ho presa di questo rosa glicine ecco così no così no così neanche così forse si ecco così rende vabbè è rosa glicine e questa l'ho pagata 4 euro e 99 anche questa poi ho preso questa tovaglia per il tavolo della cucina che adoro perché è in quel tessuto lavabile lavabilissimo si chiamate adesso tanto antimacchia e se trovo il tagliandino vi faccio anche vedere la composizione dovrebbe essere tutto poliestere praticamente lo mettete sul tavolo e ve ne dimenticate perché veramente passate allo strofinaccio un panno in micro micro fibra e viene subito pulito allora questo è esattamente 100 per cento poliestere nella misura 140 per cento 75 per cui per i tavoli rettangolari e si lava tranquillamente a 30 gradi anche in lavatrice e no è veramente troppo 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 carina a questa fantasia molto shabby ma non l'ho presa per la fantasia shabby perché sinceramente guardando alcuni video mi è perso invenuta la nausea a sentire questo nome però praticamente io facevo shabby quando le altre non sapevano neanche cosa fosse ma questo è tutto un altro discorso e infine c'è il mio regalo il mio auto regalo anzi no non è vero bugia è il regalo di mio marito perché gli ho detto regalavo lo regalavo ed è adesso ve lo faccio vedere il mio barattolo tazza per le tisane anche questo è scontato no non è scontato comunque l'ho pagato 3,50 euro è bellissimo io lo adoro l'ho sempre desiderato me ne ero fatta anche uno homemade ma volete mettere la soddisfazione guardate l'ho desiderato così tanto che stamattina quando l'ho vista con mio marito gli ho detto ti prego regalo e niente ice cold drink ci sono le bevande calde le bevande fredde no sono troppo felice e finalmente anche io come una whip ho il mio barattolo per le bevande ok altro da mostrarvi sì ma questo non l'ho acquistato oggi sono stati questi elastici che ho trovato finalmente dai miei cinesi di fiducia perché li cercavo anch'io questi qui fatti aspettate ecco vedete questi qui fatti a molla per non spezzare i capelli allora li ho cercati da Bershka li ho cercati da Stradivarius perché sentivo dalle diverse youtubers che comunque loro li trovavano lì chi li trova normali chi li trova vellutati chi li trova trasparenti io raga ve lo assicuro io ho trovato questi ed è stato un miracolo trovarli perché è stata l'ultima confezione o l'unica confezione che avevano e praticamente finalmente l'ho trovato anch'io così posso farmi la piega ai capelli la notte senza che senza strapparmeli e poi anche questi molto utili sono anche questi degli elastici che non strappano i capelli e niente per avere comunque una piega normale senza spendere lira di Dio e questi invece sono stati degli acquisti che ho fatto dai cinesi in più ho in vista del mio viaggio ho praticamente acquistato questa borsa che non è una borsa normale vedete col manico ma diventa allora aspettate praticamente diventa uno zainetto guardate è troppo 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 carina è molto capiente infatti sto pensando di usarla come bagaglio a mano perché comunque ci sta dentro questo mondo e anche quell'altro e basta per questa settimana i miei acquisti sono questi sono felicissima del mio barattolo del mio nel mio barattolo con relativo maniguzzo e niente spero di avervi tenuto compagnia spero alle ragazze sarde di aver dato delle delle buone idee regalo e noi ci vediamo al prossimo video ciao